Io considero la vicenda anche molto grave che è stata comunicata con tanto ritardo nella chiusura degli impianti di sci, una specie di eredità del precedente governo. A me sembra che lo stile di Draghi porti lo stesso presidente a dire o comunque a far uscire la notizia che è stata una decisione condivisa perché si deve mantenere l'impianto dell'istituzione saldo. Però io penso che ci sarà una svolta di qui davanti sia nel metodo sia nelle scelte che verranno fatte anche perché gli stessi ministri competenti, lo stesso ministro Caravaglia non era nelle condizioni di conoscere quello che sarebbe successo. Quindi da questo punto di vista dare un giudizio su questo governo, su una vicenda che riguarda chiaramente il precedente governo e anche i metodi precedenti è sbagliato. Noi qui dobbiamo accelerare sul piano delle vaccinazioni Grazie. 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 Grazie.